E' lo sfiato! 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 Fermate! E' lo sfiato! Fermati un po'! Porco Dio! E' lo sfiato! E' lo sfiato! Deute! E' lo sfiato! No, fammi partire! Fammi partire! Cosa fa di un pilota un campione? Determinazione Velocità Coraggio Ci sono molti piloti con queste qualità, ma per essere un campione spesso non bastano. Bisogna avere qualcosa in più. Perché quando ti spingi fino al limite, quando un solo errore può cambiare tutto, c'è una sola cosa che può fare realmente la differenza. Il controllo Questa è la tua sfida Questo è WRC3 E' amici di Youtube, bentornati con un nuovo video di WRC3 World Rally Championship. Siamo sempre qui con il vostro Silver Block, il navigatore Giuliano Samà. Siamo andando avanti qui nell'area americana contro Sara Lopez che sfideremo più avanti. E niente, allora, bando le cianci amici, vi lascio con il proseguimento del video. Buona visione a tutti quanti. Ci sentiamo poi dopo alla fine per i commenti finali. Il Messico offre alcune delle prove speciali più difficili al mondo. Pur essendo corso per lo più ad alta quota, un caldo opprimente accompagna i piloti per tutta la sua durata, mentre il terreno polveroso e ricoperto di ghiaia li costringe a non abbassare mai l'attenzione. Sinistra 3 e sinistra 3 Sinistra 3, poi destra 3 e 60, stai al centro, attraverso cancello. Attenzione, dopo i difficili, sinistra 5, in destra 2, molto stretta. Destra 6, lunga e sinistra 6, lunga. Poi destra 5 e sinistra 6. Destra 4, in sinistra 4 e destra 3. Sinistra 4, lunga, chiude e 60. Volta, destra 4 e sinistra 5, volta. Tornante destra, poi sinistra 2, molto stretta. Destra 3, apre, in sinistra 3. Poi tornante destra, barriera all'esterno e 40. Destra 5, in sinistra 3 e destra 4. Poi sinistra 4 e destra 3 e 40. Sinistra 4, in chicane destra, taglia e destra 3, coppa. Poi sinistra 3, in sinistra 3 e sinistra 2 e 40. Poi tornante destra, molto stretto. Sinistra 5, in destra 5, chiude. E sinistra 3, in destra 3 e 40. Poi tornante destra, poi tornante sinistra. Apre, in destra 4 e 60, sud 8. Poi destra 2, 40 e tornante sinistra. Non tagliare. Destra 3, lunga, in sinistra 3. Molto lunga, chiude. Destra 2, lunga, chiude. Poi sinistra 3, in destra 5 e tornante sinistra. Tornante destra, molto stretto e 60. Sinistra 4, in destra 5, poi sinistra 2, molto stretta. 40, taglia sinistra. Poi destra 2, in destra 4 e tornante sinistra. Barriera all'interno. Sinistra 5, attenzione, destra 2, molto stretta. Sinistra 4, in destra 3, chiude. In sinistra 3, e destra 3, 60. Sinistra 5, in destra 4, chiude. In sinistra 4, poi destra 5, lunga. Sinistra 3, in destra 3, costa. Sinistra 2, intornante destra. Poi sinistra 2, in destra 2, subosto. Sinistra 6, in destra 2, attraverso acqua. Sessanta, salto traguardo. Sessanta, salto traguardo. Grazie a tutti. 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 Superarne indenni le insidiose rocce sporgenti è impresa degna solo dei migliori piloti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e salto. Apri. destra, destra, non tagliare, non tagliare, non tagliare, non tagliare, non tagliare e sinistra 3. non tagliare, non tagliare, non tagliare, non tagliare, non tagliare, Grazie a tutti. 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 Forza. Grazie a tutti. 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 poi a tutti. Grazie 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 a tutti. qualche errore nell'ultima gara e poi il concorso per quante volte perdo il paraurti se non mi sbaglio di aver contato cinque volte in questo video in tutto l'arco del video cinque volte scrivete nei commenti se il numero è giusto il numero è sbagliato vi ringrazio ci vediamo appuntamento al prossimo video sempre qui su youtube con vrc3 world rally championship con il vostro silver block un salutone a tutti quanti voi ciao al prossimo video amici di youtube se volete supportare il mio canale con delle piccole donazioni potete trovare il mio link paypal nella descrizione del mio canale e potete trovare anche i link di collegamento al mio fruit lab account grazie